Grazie Presidente. Le nostre rispettive posizioni in materia di fusioni dei comuni sono ormai note. Numerosi sono stati i nostri richiami a una maggiore prudenza. Siamo infatti certi che le fusioni dei comuni non siano affatto quella panacea di tutti i mali toscani che viene propagandata. Sta di fatto che questi nostri appelli alla prudenza sono stati finora respinti. Siete infatti affetti da una grave forma di fusionomania, malgrado certi recenti risultati referendari in cui ha prevalso una maggioranza contraria, e potrei citare Capolone Subbiano e Castiglion Fibocchi. E nonostante qualche sindaco, che pur appartenendo al Partito Democratico, ne ha preso le distanze a livello locale su questo argomento, anche con affermazioni piuttosto forti che abbiamo letto sulla stampa. Abbiamo già proposto in vano l'obbligatorietà della presentazione degli studi di fattibilità preventivi, idonei a fornire ai comuni interessati dal processo di fusione, dati ed elementi di valutazione dell'analisi del territorio, della popolazione e dell'economia. È idoneo a sondare la fattibilità tecnico-organizzativa, economico-finanziaria e politico-istituzionale della fusione, utile a prendere una decisione che sia davvero ragionata e consapevole. Riteniamo infatti che la tematica debba essere affrontata con cognizione di causa, studiando attentamente i pro e i contro dell'operazione. I residenti infatti devono essere consapevoli che è un matrimonio da cui sovente non si può divorziare. Per questo abbiamo presentato questa proposta di legge al Parlamento, il cui primo obiettivo è proprio quello di regolamentare il caso in cui, a seguito di un processo di fusione di comuni, un numero di cittadini e residenti possa proporre il distacco di una parte del territorio del nuovo comune in due o più comuni. Tale possibilità, come già stata detta dal Presidente Bugliani, oggi è consentita solo se la nascita dei nuovi comuni superi il numero di 10.000 abitanti, creando appunto una disparità di trattamento ingiustificabile fra le popolazioni dei grandi centri urbani e quelle delle realtà che sono al di sotto di questa soglia. Infatti la nostra proposta mira innanzitutto a consentire l'annullamento della modifica delle circoscrizioni territoriali a seguito del processo di fusione in un periodo di 10 anni dalla istituzione del Comune Unico. Presentando questa proposta di legge al Parlamento abbiamo mantenuto una promessa fatta al territorio, in particolare a un grande numero di cittadini costituiti in comitato, residenti nella frazione di Castelfranco di sopra, nel Val d'Arno a Retino, oggi facente parte del Comune di Castelfranco Pian di Scò, un tempo libero comune. La fusione dei due comuni nel Val d'Arno fu decisa dal voto di 3.299 cittadini per la cronaca, quelli che si ricarono alle urne. A distanza di tre anni, 1.300 cittadini hanno formato la richiesta per poter tornare indietro, che perché sono assolutamente insoddisfatti della fusione, per sciogliere il Comune appena fusso e riavere le due municipalità. Ciò significa che molto probabilmente in una nuova consultazione referendaria la possibilità che si possa invertire il risultato sarebbe davvero grande. Oltre a constatare un malcontento generalizzato per la fusione, abbiamo constatato dei gravi disservizi che sono verificati nel Comune di Castelfranco Pian di Scò a seguito della fusione. Il secondo obiettivo della nostra proposta è di introdurre, come appunto è già stato detto, l'impedimento anche a chi ha svolto due mandati consecutivi da Sindaco in un Comune che è stato oggetto di fusione, di rappresentarsi per il terzo mandato come Sindaco del nuovo Comune, costituitosi a seguito del processo di fusione. Crediamo che questa disposizione sia un'ulteriore, logica, garanzia affinché la fusione si faccia nell'interesse dei cittadini e non nell'interesse di qualche Sindaco. E sappiamo che il limite del terzo mandato è particolarmente caro anche a qualche altra forza politica presente in quest'Aula. Sappiamo che in Commissione la nostra proposta di legge è stata votata contraria. Ci aspettiamo delle evoluzioni positive in quest'Aula. Grazie Presidente. Grazie a tutti.